Che cos'è l'ASMR? Te lo spiego subito. L'ASMR, acronimo di Autonomy Sensory Meridian Response, è una sensazione di rilassamento e formicolio che molte persone sperimentano in risposta a stimoli visivi, uditivi o tattili specifici. Ascoltare contenuti ASMR può offrire vari benefici che possono suscitare interesse e curiosità nella sua pratica prolungata. Ecco alcune ragioni. Riduzione dello stress e dell'ansia. Gli stimoli ASMR spesso inducono una sensazione di calma e rilassamento. Questo può aiutare a ridurre lo stress quotidiano e a placare l'ansia, fornendo un'esperienza rilassante. Miglioramento del sonno. Molte persone utilizzano l'ASMR come una forma di rilassamento prima di andare a dormire. I video ASMR spesso presentano suoni e situazioni che favoriscono la tranquillità, creando un ambiente favorevole al sonno. Concentrazione e mindfulness. Ascoltare i contenuti ASMR. Richiede spesso una concentrazione delicata. Questo può aiutare a distogliere l'attenzione da pensieri ansiosi o stressanti, promuovendo un momento di mindfulness e focalizzazione. Esperienze sensoriali piacevoli. Gli stimoli ASMR possono coinvolgere una vasta gamma di sensazioni, tra cui suoni delicati, tocco leggero o visivi rilassanti. Queste esperienze sensoriali possono essere piacevoli e offrire una pausa piacevoli dalla routine quotidiana. Comunità e condivisione. L'ASMR è diventato un fenomeno online con una vasta comunità di creatori e spettatori. Esplorare questa comunità può suscitare interesse nella varietà di contenuti disponibili e permettere di scoprire nuovi artisti e approcci creativi. Creatività e intrattenimento. Molti video ASMR sono realizzati con la varietà di suoni e situazioni che possono essere create aprendo la mente a nuove esperienze sensoriali. Per la personalizzazione dell'esperienza, l'ASMR offre una vasta gamma di stimoli, tra cui scegliere, consentendo alle persone di personalizzare la propria esperienza. questa flessibilità può aumentare l'interesse poiché ognuno può trovare trigger, trigger, trigger. Ad esempio, con queste forbici puoi creare un trigger. Zap, 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 zap. Zapp, 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 oppure con questa custodia per degli occhiali. Oh, un trigger liquido. In definitiva, l'SMR può essere una pratica rilassante e benefica, con una vasta gamma di stimoli e opportunità di esplorazione. Ascoltare in modo lungo e approfondito può portare a scoperte personali e favorire un senso di benessere generale. Adesso che ti ho spiegato che cos'è l'SMR in modo molto approfondito, farò diversi suoni per rilassarti. E perché no, magari riuscirò anche a farti attormentare, 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 cadere in un sonno profondo, 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 profondo. Questi sono i cosiddetti visual trigger. Adesso userò una bustina in plastica. 했anzi. Adesso andrò ad utilizzare una tastiera, una semplicissima tastiera. Questa è una semplicissima. La lettera A La lettera A B La lettera C A B C D Adesso andrò ad utilizzare un altro trigger Un altro, un altro, un altro trigger Indosserò degli occhiali da sole Prima però Puliamoli un po' In questo modo Con questo panno nero Anche l'interno Vediamo Come mi stanno Occhiali Di colore giallo Adesso Farò un po' di inaudible Ovvero andrò a raccontarti Una piccola breve storia Ma Inaudible Ovvero andrò a Parlare in modo non molto chiaro Molto molto Con voce molto molto bassa E Questo è un trigger molto famoso Nel mondo dell'smr Cominciamo subito In un piccolo villaggio Cerco andato da vermi colline In Capitaro Viveva una comunità di Maio C'era un comune L'ho chiamato Lapo Per la sua dolcezza E la sua vita E la sua storia Un altro In Lapo Si trova con un grande L'altro Centro del villaggio Raccontavano fuori Insati ai mari Una sera estate Mentre il tono finava Alettamente Dietro le colline Lapo iniziò A raccontare la storia Una frafalla magica Che danzava Leggera tra i fiori Del villaggio Questa frafalla Aveva ali Irridescenti Che brillavano Alla luce chiara Di luna Quando batteva le ali Rilasciavano Una polvere magica Che portava Assernità E gioia A chiunque Le fosse vicino Gli animali del villaggio Immaginavano Questa frafalla magica Che inserla pensava Dalle sue ali Lumidose E riempiva Di una sensazione Di calma E pace interiore Mentre Lapo Continuava a raccontare Che gli maletti Si stendevano Sull'erba morbida Ascoltando il dolce son Della sua voce Immaginando il mondo Incattato Della frafalla Man mano Che la storia Si sviluppava Lapo trasmetteva La magica Delle frafalle A tutti gli ascoltatori Gli grilli Inizia A cinque età Una melodia Rilassante Le luci Le danzavano L'aria votturna Creando uno spettacolo Di luci incantevole Quando la storia Giunsa Alla sua conclusione Nel villaggio Ravvolto Di una posore Di tranquillità Gli animali Ispirati Della storia Delle frafalle Magica Oltre tirarono Nel loro rifugio Pronti Per una notte Pronti Per una notte Di sonno Lapo sorrisse Mentre Azzeravano Il villaggio Tormentarsi Lentamente Sapendo di aver Ricalato A tutti Una dolce serata Di pace Il villaggio Sotto il giallo Sellato La frafalla Magica Continuava A zanzare Nei sogni Degli abitanti Del villaggio Portando con sé La magia Della serenità Permettimi Di farti Un ritratto Non ti muovere Da piacere Apri bene gli occhi Mi resta immobile Per favore Molto molto bene Molto molto bene Amso Di Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, è piaciuto? Ti invito anche a leggere la descrizione di questo video e noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao, baci della buonanotte. Buonanotte! 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 BANANA OUTE